Siamo sull'autobus dall'aeroporto di Monaco verso il Moc dove si terrà il Munich High End Show e sul volo di andata a Roma-Monaco ho incontrato Alessandro D'Agostini che mi ha detto che il weekend del 26 e 27 maggio, cioè venerdì 26 e sabato 27 maggio farai un super-evento per il sottopunto vendita Super-evento? Parliamone però Super-evento, cioè tutte le serie B&F, serie 600 Serie 700, 800 con varie elettroniche Varie elettroniche, Denon, Marans, Classier, giratischi TransRotor, streamer Melco, un po' di giocattoli E non è un super-evento E non è un super-evento Pensa quando fanno il super-evento Allora, la serie 600 cosa c'hai? Allora, suonerà la 603 S2 Anniversary che è il diffusore da pavimento insieme a Denon PMA 900 che ha lo streamer a bordo e il suo elettore CD con giratischi Rega Planar 1 quindi un super-democratico impianto ma da prestazioni molto interessanti Per quanto riguarda l'altra sala suonerà la 703 S3 con il Model 40 di Marans Un'altra coppia da strepitosa Nella sala più grande ci sarà il pre-finale stereo Classier con il giratischi TransRotor, braccio Rega e testina Rega Ania Pro con il pre-amplificatore Classier, il finale Classier e il giratischi TransRotor, non mi ricordo se l'ho detto e i diffusori, le 803 D4 Ok, insomma, e poi le cuffie Bauer Abbiamo anche le altre cuffie che non la usi, certo Ci sarà anche Roberto Petrazzini, ci sarà Roberto Petrazzini di Marans Italy Un bel evento, un bel weekend quindi prima andate da lui e poi venite all'evento o ben più o il contrario o viceversa Noi la domenica no, facciamo il venerdì Venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno Noi idem venerdì, anche aperitivo la sera fino alle 20 Allora vengo Allora vengo Ci vediamo lì Ciao Ciao, a presto